Qui a Massa è la nostra lista, è la lista più giovane di tutte le liste della provincia di Massa Carale, con ragazze e ragazzi. Abbiamo abbassato l'età media, siamo contenti perché avere una lista di giovani e giovani significa che riusciremo a portare avanti anche un programma per le nuove generazioni. Che noi siamo il partito più antico, più vecchio dell'Italia contemporanea, lo sanno tutti, siamo dal 1892, però avere anche dei trentenni, dei quarantenni ci fa piacere, ne abbiamo tantissimi. Come vi ripeto è la lista più giovane di tutte le liste che si presentano nella competizione elettorale per l'elezione del sindaco e del Consiglio Comunale di Massa e questo fa più esperienza.